Dal primo giorno mi hanno accolto molto bene, i ragazzi sono splendidi, c'è un gruppo bellissimo, un ambiente che tira tutti per lo stesso lato, quindi sappiamo tutto quello che vogliamo, quindi è una grande cosa, staff, tutto, si vede che c'è un bel ambiente, si respira un bel aria e questo penso che in queste prime settimane è quello che ho percepito di più. Noi dobbiamo pensare a trovare ogni settimana, ogni partita la mentalità, la voglia di vincere, penso che ogni partita bisognerà affrontarla così e poi dopo partita a partita arriverà quello che vogliamo, ma penso che trovare e mantenere la mentalità e la voglia di vincere è quello che non ci può mai mancare. La prima partita a San Sidro per me ovviamente è speciale, poi come l'abbiamo vinto è molto bella, una serata molto particolare per me e poi penso che è un grande match per noi, che è molto importante quella vittoria, lui trasmette tanto quella voglia di vincere, quella energia che lui ha, penso che la trasmette alla squadra in un buon modo, con intelligenza, ci trasmette quello che vuole lui da noi, quindi per me è una cosa che me l'aspettavo, ma non così come l'ho visto. Speriamo che faccia tante gole e poi se arrivano ai miei assi meglio ancora, però chi farà gole penso che non sarà l'importante, ci sarà farli e vincere le partite. Come giocatore lui è tutto da admirare, penso che anche io che sono di un'altra età, però tutti abbiamo visto il suo modo di giocare nei video o anche in partite, quindi penso che non ha bisogno anche di dare i consigli, solo la sua presenza trasmette tanto già, trasmette tanta serietà, tanta responsabilità, trasmette qualcosa alla squadra, penso che è molto importante per noi, bisogna essere pronto, bisogna dare tutto ogni volta che entri, sia il ruolo che sia. Poi le partite andranno come andranno, ma bisogna essere sempre a disposizione. Il Caleri ovviamente sarà in casa, è un campo con difficoltà difficile, loro giocano in tanti da tanto tempo insieme, quindi sarà una partita molto complicata e dovremo ovviamente andare con tanta voglia di vincere, soffrire, umiltà e cercare i tre punti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.